Salve ragazzi, oggi lezione speciale all'aperto, infatti come potete vedere dal paesaggio alle mie spalle mi trovo in montagna, più precisamente mi trovo sul Monte Secchieta a circa 1500 metri di altitudine. Il Monte Secchieta fa parte del più grande massiccio del Pratomagno, ovvero il gruppo di montagne che separa il Val d'Arno, Fiorentina e Retino da una parte e la Valle del Casentino dall'altra. In particolare mi trovo in corrispondenza del cosiddetto parco eolico di Montemignaio, il comune di Montemignaio in provincia di Arezzo. Il motivo per cui mi trovo qui è perché questo è uno dei pochi parchi eolici da Toscana, in particolare questo parco eolico è costituito da tre generatori eolici che vedete alle mie spalle, ovvero tre strutture in grado di generare energia elettrica sfruttando la forza motrice del vento. Allora, cominciamo a dare intanto qualche informazione su come sono fatti questi oggetti alle mie spalle e poi vi parlerò un pochino più nello specifico di come funziona un impianto eolico. Il parco eolico di Montemignaio è composto da tre cosiddetti aerogeneratori tripala, ovvero la parte mobile che in questo momento infatti vedete muoversi leggermente, è costituita da tre pale. Questa è la tipologia costruttiva più comune nella realizzazione di aerogeneratori ma non è l'unica. se girate un po' per la Toscana ma soprattutto per il nord Europa dove lo sfruttamento dell'energia eolica è molto più diffuso vedrete che sono presenti tipologie di aerogeneratori a due pale, a quattro pale e più raramente a una pala sola. Giusto per darvi un'idea delle dimensioni di questo oggetto, il diametro del rotore per tutte e tre gli aerogeneratori è di circa 40 metri. Quindi se noi guardiamo la dimensione relativa del rotore rispetto al pilone di sostegno possiamo stimare più o meno la dimensione dell'oggetto complessivo in circa 60 metri. Tuttavia esistono aerogeneratori molto molto più grandi con pilastri di sostegno anche di 100 metri. in cima al pilastro si trova il rotore quindi la parte mobile che a sua volta è attaccata a una parte fissa che si chiama gondola e la gondola è il vero cuore del nostro aerogeneratore perché al suo interno è presente l'alternatore, la dinamo cioè quella apparecchiatura che trasforma l'energia di movimento, che può essere l'energia di movimento di una turbina come in una centrale termoelettrica o in una centrale idroelettrica in energia elettrica che è poi quella che viene distribuita nelle case. Per avere un'idea di quanta energia viene prodotta da ciascuno di questi aerogeneratori noi usiamo come riferimento la potenza, in particolare ciascuno di questi aerogeneratori può produrre circa 0,6 megawatt cioè 600 kilowatt di potenza, più o meno è stimato che tutto l'impianto a regime nel corso dell'anno produce circa 3000 megawatt di potenza. Allora, come vi avevo anticipato, ora vediamo nel dettaglio come funziona un aerogeneratore, come funziona un'attore eolica in questo disegno sono mostrati tre elementi principali di un aerogeneratore quindi il pilone di sostegno, la gondola e il rotore il rotore, come vi ho già detto, può essere costituito da uno fino a quattro pale la tipologia più diffusa è quella a tre pale il pilone ovviamente è una struttura fissa il rotore invece, proprio per poter sfruttare le energie del vento deve potersi muovere in realtà anche la gondola è un elemento mobile in particolare la gondola è incernierata qui in corrispondenza dell'attacco sul pilone proprio per potersi orientare con la direzione del vento e quindi a seconda della direzione in cui proviene il vento la testa, per così dire, del nostro aerogeneratore si può muovere all'interno della gondola, è giusto per darvi un'idea, una gondola può avere più o meno dimensioni di un'automobile quindi è un oggetto abbastanza grande questo è l'asse del nostro rotore, l'asse del rotore girando fa muovere l'alternatore che si trova all'interno della gondola l'alternatore come già sappiamo è quell'elemento che permette di trasformare un'energia meccanica di movimento in energia elettrica che poi verrà distribuita sulla rete giusto per ricordare un attimo i passaggi che sono necessari per trasformare l'energia del vento in energia elettrica questi passaggi sono riassunti qui abbiamo l'energia cinetica del vento che a sua volta si trasforma in energia cinetica del rotore che a sua volta viene trasferita all'alternatore dove avviene l'ultimo passaggio cioè la trasformazione in energia elettrica la cosa interessante è che questo è un numero di passaggi molto più basso ad esempio dei passaggi che avvengono in una centrale termoelettrica dove abbiamo i vari passaggi da energia chimica, energia termica, energia cinetica e così via e vi ricordo che questo è proprio legato alle leggi della termodinamica quindi alle leggi che regolano gli scambi energetici più passaggi faremo e minore sarà l'efficienza cioè maggiore sarà la dispersione dell'energia iniziale nell'energia utile che poi servirà a noi ora che l'impianto è in esercizio volevo farvi vedere un attimo il funzionamento dell'aerogeneratore in particolare mi vorrei soffermare sulla forma delle pale le pale di un impianto eolico non sono molto diverse come forma alle pale che sono dell'elica di un aereo o di un ventilatore la differenza è che chiaramente queste non devono essere delle pale propulsive come può essere appunto l'elica di un aereo che serve appunto a spingere l'aria in modo da far muovere in avanti l'aereo oppure le pale di un ventilatore che appunto devono spingere l'aria verso di noi queste qui invece funzionano quasi come ali quindi se io devo andare a vedere una somiglianza tra la forma di queste pale e qualche altro oggetto in realtà la forma ricorda molto più quella di un'ala quella di un'ala di un aereo che appunto sfrutta la differenza di pressione tra la parte superiore e la parte inferiore dell'ala per creare quella che viene chiamata in gioco aeronautico la portanza cioè quella forza che alla fine permette all'aereo di decollare e di prendere quota allo stesso modo la pala di un aerogeneratore è fatta in modo da sfruttare al massimo la spinta del vento per trasformare questa spinta che è una spinta orizzontale in un movimento circolare delle pale che poi appunto attraverso il rotore si trasmetterà all'alternatore presente all'interno della gondola l'energia eolica è un'energia rinnovabile e questo è abbastanza evidente perché il vento è un fenomeno atmosferico che si ripete in continuazione e come tale non è legato alla disponibilità di una risorsa esauribile come può essere il carbone o il petrolio o il gas naturale o l'uranio essendo elencata tra le energie rinnovabili ovviamente l'eolico è una delle principali alternative allo sfruttamento dei combustibili fossili tra le altre cose tra le varie energie rinnovabili l'energia eolica è una di quelle più pulite in assoluto perché sia nella realizzazione dell'impianto ma soprattutto nel suo esercizio nel suo funzionamento normale un impianto eolico non produce alcun tipo di emissione nociva a partire dalla nide carbonica o dagli altri gas serra e tantomeno da altre fonti inquinati quindi come tale potremmo considerarla una delle fonti energetiche più verdi quindi più ecosostenibili che esistono tuttavia anche l'energia eolica trova diversi ostacoli nella sua applicazione anche da gruppi ambientalisti oltre all'ovvio svantaggio dello sfruttamento dell'energia eolica dovuta alla presenza o mancanza di vento e questo è un chiaro esempio in questo momento che vi sto parlando non c'è vento, le pale non girano e quindi non stanno producendo elettricità e questo chiaramente è un grosso svantaggio laddove per esempio devo alimentare una città che ha continuamente bisogno di energia elettrica quindi io non potrò fare affidamento esclusivamente su questa fonte energetica perché non è completamente affidabile non posso averla a comando come invece può succedere quando utilizzo l'energia proveniente da una centrale termoelettrica o da una centrale termonucleare accanto a questo ci sono due principali obiezioni all'utilizzo dei campi eolici da un punto di vista ambientale il primo riguarda l'impatto paesaggistico e questo è sicuramente un aspetto assolutamente non da trascurare in particolare in questo momento io mi trovo su un crinale di una montagna questo fa sì e questa scelta progettuale è abbastanza comprensibile perché proprio sul crinale normalmente è dove ho il maggior movimento di corrente atmosfere quindi ho una maggiore presenza di vento rispetto a una vallata quindi ponendo questo impianto, questo piccolo parco eolico perché in realtà sono solo tre aerogeneratori sul crinale di montagna faccio sì che questi tre aerogeneratori siano estremamente visibili in effetti sia che voi siate nel Casentino sia che voi siate nel Valdarno, Fiorentino e Aretino le tre pale del parco eolico di Montemignano sono chiaramente visibili e questo molte persone lo considerano un'offesa al paesaggio un altro tipo di obiezione riguarda invece il rumore che dovrebbe essere prodotto dall'impianto eolico in esercizio in realtà ora in questo momento l'impianto eolico è fermo perché non c'è vento quindi non posso dimostrarvelo direttamente in realtà anche quando è in pieno esercizio il rumore prodotto da un campo eolico non è assolutamente paragonabile che so al rumore che viene prodotto da una città nelle sue normali funzioni quindi il traffico e tutti altri rumori che noi normalmente colleghiamo alle attività umane l'ultima obiezione anche questa abbastanza ragionevole riguarda invece il pericolo per gli uccelli se voi immaginate soprattutto un campo eolico parecchio esteso sia sulla terraferma sia come adesso è una modalità di costruzione molto diffusa in un pianto offshore quindi con l'aerogeneratore in mezzo al mare a pochi centinaia di metri o anche a qualche chilometro dalla costa un impianto del Genne con diversi aerogeneratori in esercizio ecco le pale rappresentano effettivamente un pericolo per gli uccelli di passaggio che possono essere colpiti e quindi uccisi dalle paleoliche questo in effetti è un effetto che è stato misurato è stato osservato e cosa ci insegna questo? ci insegna che qualsiasi fonte energetica noi andiamo a scegliere quindi che sia una fonte esauribile che sia una fonte rinnovabile non esiste una fonte energetica perfetta cioè non esiste una fonte energetica che sia a impatto zero sull'ambiente o che non abbia delle conseguenze sulle persone, sugli animali, sul paesaggio è chiaro quindi che quando uno Stato una qualsiasi amministrazione pubblica compie una scelta nei sensi del da dove prendo l'energia questa scelta deve essere dettata da ragioni di compromesso da un bilanciamento tra i vantaggi di tale fonte energetica e gli eventuali svantaggi derivanti dall'adozione di quella fonte energetica come vi ho cercato anche di farvi capire per esempio nel Geolica è un'ottima scelta come fonte energetica ma proprio per certe sue caratteristiche prima fra tutti la sua non continua affidabilità il fatto che non è una fonte energetica continua essa dovrà necessariamente affiancarsi ad altre fonti energetiche se vuole garantire un fabbisogno continuo per esempio a una città a una zona industriale e così via allora spero che questo video sia stato interessante per voi che avete imparato qualcosa di nuovo cercheremo di approfondire gli argomenti trattati in questi video a lezione per ora è tutto arrivederci da Montemignaio in realtà la rivederci è stata molto breve perché ho fatto in tempo a spengere la telecamera che un po' di vento si è alzato quindi mi faceva piacere anche farvi vedere gli aerogeneratori in funzione un ultimo dato tecnico che non vi ho dato in precedenza è la velocità del vento necessaria a far funzionare questi aerogeneratori secondo la scheda tecnica del produttore di questo aerogeneratore la velocità minima del vento per farlo funzionare è di 2 metri al secondo che in effetti è proprio appena appena una brezza e uno potrebbe pensare che non c'è in realtà una velocità massima del vento in realtà sì perché sopra certe velocità la rotazione del rotore può diventare eccessiva può provocare un sovraccarico nell'alternatore quindi nella linea elettrica ad essere attaccata e può in generale danneggiare la torre quindi esiste anche nell'aerogeneratore la cosiddetta velocità di cut off di taglio cioè una velocità oltre alla quale l'aerogeneratore si stacca automaticamente e questa velocità nel caso di questo tipo di impianto è di circa 30-35 metri al secondo poi dopo vedremo come fare la conversione da metri al secondo in chilometri orari giusto anche per avere un'idea un pochino più precisa di che velocità corrisponde in chilometri orari oppure come unità di misura che viene usata molto spesso per misurare sia la velocità del vento che la velocità anche delle correnti marine usando i cosiddetti nodi quindi una di quelle unità di misura nautiche ecco, questo ci aiuterà anche un po' a capire quali intervalli di esercizio hanno questo tipo di impianti allora, a questo punto è davvero tutto ci rivediamo a lezione alla prossima!